Buongiorno a tutti, sono Marco Peruzzi di Planes RL. La nostra azienda nasce nel 1991 dal mio padre e al tempo il suo socio e quindi da subito si specializza nella lavorazione di tubi e laminati destinati al settore dell'arredamento, quindi una carpenteria che inizialmente parte lavorando l'acciaio, l'acciaio ferroso e negli ultimi anni si è spostata sempre di più a metalli pregiati come alluminio, ottone e acciaio inox. non tralasciando comunque il ferro. Da sempre, come ho già detto, realizziamo il 70% del nostro fatturato è realizzato da strutture destinate al settore dell'arredamento e l'altro 30% del fatturato ha tubi curvati e strutture saldate per il mondo dell'agricoltura, dell'automotive e dell'industria in genere. Lavoriamo ormai da quasi 10 anni con Pronius, con il gruppo Arroweld ci siamo innamorati fin da subito delle loro macchine tanto che noi abbiamo 14 postazioni di saldatura dove ogni 3 postazioni sono destinate all'ossia acetilenica e le altre 11 postazioni invece sono destinate a saldatura MIG e TIG e ogni postazione è formata da due saldatrici, una MIG e una TIG entrambe Pronius. Appunto questa scelta di cambiare totalmente le saldatrici e passare da un unico marchio è avvenuta 3 anni fa ed è stata per noi una mossa vincente. Il gruppo Arroweld è un gruppo che fin da subito ci ha sostenuto ha creduto in noi e noi a nostra volta abbiamo creduto in loro un partner fidabile, un fornitore che è sempre disposto a mettersi in gioco a risolvere i problemi e le sfide che ogni cliente gli mette davanti quindi continueremo a lavorare con loro finché la collaborazione è di questo tipo. Nello specifico plan si occupa della lavorazione di tubi e laminati quindi abbiamo praticamente due magazzini verticali per lo stoccaggio della materia prima e dei semi lavorati lavoriamo verghe da 6 metri di tubo e tondino e inoltre lavoriamo anche il tondino in barra come lavorazione interna si parte dal reparto taglio dove troviamo taglio laser, segatrice automatica e varie troncatrici manuali poi si passa nel reparto di curvatura nel reparto di curvatura composto da una piegafilo che arriva fino al diametro 10 e 5 piegatubi e raggio variabile dove arriviamo a piegare fino al diametro 80 successivamente si passa al reparto truccelo dove troviamo trapani e filettatrici un centro di lavoro e un torneo a controllo numerico e tutte le presse abbiamo una pressa che è questa qua dietro l'ultima arrivata che arriva fino a 120 tonnellate idraulica quarto step è il reparto di saldatura dove vi ho già illustrato tutte le nostre macchine tra l'altro abbiamo anche due robot di saldatura e in ultima abbiamo anche un reparto di pulitura e smerigliatura dove il pezzo viene preparato per l'eventuale trattamento superficiale di verniciatura e cromatura nella seconda sede a 200 metri da qua c'è un reparto di magazzino controllo qualità logistica dove offriamo un servizio al cliente che è quello del montaggio da gennaio 2024 abbiamo anche un terzo stabilimento a Carrè per avvicinarci di più al gruppo Arwe no, questa l'ho detta per scherzare abbiamo acquistato un nostro piccolo competitor a Carrè per volontà anche e suggerimento di un nostro cliente importante e quindi ad oggi plan contra tre sedi la sede principale in via Primo Maggio a Castelgomberto la sede logistica in via Pedemontana sempre a Castelgomberto e la sede a Carrè in via Terrenato e ad oggi i collaboratori interni di Plan sono 65 persone dal 2017 la governance di Plan è affidata alla famiglia Peruzzi quindi a mio papà che è il fondatore e ci siamo anche io e mio fratello in azienda io mi occupo di seguire la parte amministrativa, commerciale e acquisti mio fratello Enrico invece si occupa della parte appunto della saldatura è stato lui che ha deciso, ha fatto la scelta di lavorare con Arwe mio papà fin da sempre lavora nel reparto di ricerca e sviluppo e continua appassionatamente con questo suo lavoro con questo suo, chiamiamolo hobby fino a quando sarà stato insomma ecco grazie a tutti grazie a tutti